Una pizza deliziosa Rosticceria di prima qualità Gusto e tanta passione Nel regalare gioie per il tuo palato Non puoi non provare le nostre specialità Non puoi non venire da noi Melis Pizza lo trovi in Via Europa 82 A Castellammare di Stabia In un antico convento di Castellammare di Stabia Immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli Sorge dal 1998 la RSA Oasi San Francesco L'Oasi San Francesco in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud Si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti Disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato In una struttura confortevole e all'avanguardia Oasi San Francesco Salita qui si sana 30 Castellammare di Stabia www.rsaoasisanfrancesco.com Oasi San Francesco L'elisir di lunga vita Siamo in compagnia del bomber Bruno Elwasnì Tre gol in pochissimi minuti Giocati finora Una gara sbloccata da te Nei tempi supplementari Hai portato un po' la partita in discesa per le Vespe E poi c'era doppio di Paponi E alla fine una risposta anche dalla tua A qualche mugugno Che il pubblico voleva pagare il bomber da 15-20 gol Vabbè questo Ti farei tu Era normale perché voi i tifosi Soprattutto Castellammare è abituata a nomi Io sono venuto qui con tanta umiltà E sapevo che era difficile Perché è una piazza molto difficile Sapevo di venire non come nome Ma come un ragazzo che voleva dare il massimo Sto cercando di piano piano di guadagnarmi Lo spazio Quello che è merito E poi a volte ho sentito Questa è una piccola parentesi Che lo vanno a segnare il terzo e il quarto gol Allora i gol Ho segnato il primo Il terzo per un attaccante È sempre la stessa valenza A me c'è il gol di oggi Che ha aperto la partita Una partita difficile Ha la stessa valenza di un altro gol Ma sono molto contento Perché questo è il terzo gol in cinque partite Anche se ho giocato molto molto poco Spero di continuare così Ecco però ce lo racconti un po' Perché ci hai preso anche Ecco così La sprovvista durante la nostra radiocronaca Sembrava una palla Non dico morta Però stava lì A un certo punto Destro-sinistro Si è girato E hai minato nell'incrocio Che cosa hai pensato? Ecco quando hai visto la palla Entrata in rete Sì ho cercato di cogliere l'occasione Perché come ho visto Che stava attaccando a profondità Come ho visto Paponi Che stava per stoppare palla Gli sono venuto subito incontro Perché la stava mettendo giù bene Ho spostato la palla di sinistra E ho calciato subito di destro Perché poi Dovevo essere veloce Anche perché Il campo era molto pesante Quindi C'è stato anche molto difficile Giocare qui solo Ecco però Tu hai detto Sono tutti uguali Chi lo dedichi a questo gol? Allora Prima di tutto Lo dedico a me stesso Perché Come hai detto tu all'inizio Non tutti Perché mi hanno dimostrato Veramente tanto calore Non me lo aspettavo Come ribadisco di nuovo Lo dedico a me stesso Perché Sto mettendo tanto impegno Sto dimostrando Di Di essere Anche io Importante Perché Non è poco fare tre gol In cinque partite Devo solo continuare così E mettere a base Di quello che faccio La mia umiltà E continuare Su questo passo Ecco Ciro Polito ti dovrebbe Ringraziare un po' Perché lui ha scommesso Su di te Tu hai voluto la USTAP Ricordiamo Hai aspettato La chiamata delle Vesp E hai rischiato anche Di rimanere senza contratto Alla fine Per adesso La scommessa è vinta Da parte di Ciro Polito Diciamo Il direttore ha detto Scommessa Però se non credeva in me Secondo me non mi avrebbe preso Quindi Non è stata solo una scommessa Io Sto ripagando La società E' chi mi ha voluto qua Ecco adesso c'è la gara Con il Catanzaro In campionato Ci sarà per una settimana intera Finalmente Possiamo dirlo Viste questi turni In fra settimane di continui Ecco La fine Come arrivate a questo Incontro Dopo aver vinte Dopo aver vinte cinque partite Quattro in campionato Adesso queste in Coppa Per noi E' stata molto importante Questa vittoria Perché La storia ci insegna Che vittoria Porta una vittoria Quindi Arriviamo sereni Ma non A tale punto Da essere rilassati Siamo una squadra Molto forte Siamo un grande gruppo E' questo che Che incide molto In queste vittorie Perché siamo sempre pronti A sostenerci Anche oggi Tipo Chi non ha giocato Quindi Noi arriviamo Carichi Perché Non bisogna mai rilassarsi In questo campionato Perché è molto molto difficile Quindi adesso Oggi ci riposiamo Domani ci riposiamo E poi Testa al Catanzaro Che è una squadra Molto molto forte In chiusura Che cosa ti piace Della Juve Stab Di questa squadra E che cosa invece Ti piace Di Castellammare di Stab Di questa squadra No E' normale Allora Prima cosa Mi piace Il gruppo Perché Un gruppo Di ragazzi Veramente ottimi Tutti bravi ragazzi Tutti Pronti a darti una mano E questo E' molto molto importante Per un calciatore Per chi è nuovo E Soprattutto Come oggi L'abbiamo dimostrato Perché in campo Eravamo quasi tutti under Però Il mister ha dato fiducia A tutti Questo vuol dire Che c'è fiducia C'è impegno Da parte nostra E c'è tanta voglia Di fare Quindi Chi va in campo C'è da noi A Castellammare Non c'è differenza Tra prima e seconda linea Siamo tutti in una squadra E nulla Poi Di Castellammare Mi piace Mi piace tutto Perché Come ho detto Ho sempre Ti fanno per questi colori E Sono contento Di essere qui E di aver fatto Quello che sto facendo Mi ha fatto venire L'ultima domanda Davvero poi ti lascio 300 Tifosi La Juve Stabbia Avete fatto ritornare L'amore Verso questi colori A suon di prestazione Questa è Un'altra dimostrazione Di amore dei tifosi Per la Juve Stabbia Perché oggi Qualcuno dice Verso una Coppa Italia Però per i nostri tifosi Tutte partite Sono sempre lì A sostenerci Quindi Ancora di più Dobbiamo impegnarci Per dare gioia Ai nostri tifosi Ok grazie Grazie a voi Grazie a voi